Il voto in Emilia Romagna per motivi politici nazionali anche simbolici cattura maggiormente l'attenzione da calabrese e mi auguro comunque che si parli sempre di più di Calabria e se ci dovremmo impegnare perché questo avvenga. In un'intervista a Iole Santelli, candidata del centro-destra a governare la Calabria, dice che tutti siamo vittime di uno stereotipo perché che in Calabria ci sia la più grande organizzazione criminale internazionale noto così come lo è il fatto che l'andrangheta sia in realtà presente in tutto il territorio nazionale ed all'estero. Ma tuttavia si tratta di un problema da cui la Calabria deve essere aiutata a liberarsi, non può diventare una condanna per tutti i calabresi. Secondo la Santelli bisogna cambiare atteggiamento perché le leve dello sviluppo calabrese possono essere davvero tante e devono avere i giovani come protagonisti e turismo, agricoltura e innovazione tecnologica sono comparti su cui puntare per invertire la rotta e creare occupazione. Quanto a se stessa che recentemente ha dichiarato pubblicamente di essere malata, la candidata dice Sì, mi fido, mi faccio curare in Calabria e mi trovo molto bene, come in tutte le cose la Calabria è la terra, delle dicotomie, tante ombre, ma anche luci che dovrebbero essere maggiormente valorizzate. Ha concluso Iole Santelli Al suo posto io mi vergognerei dei lupi travestiti da agnelli che ci sono nelle liste del centrodestra, mi vergognerei dei transfughi e dei vecchi marpioni che si vantano di essere votati a decenni e hanno spolpato la Calabria. Mi vergognerei di chi pretende di accaparrarsi assessorati ancora prima delle elezioni. Mi vergognerei di certi candidati della Lega divenuti noti alle cronache nazionali non certo per le loro virtù politiche e culturali. Io non ho nulla di cui vergognarmi, mi vergogno solo dei politici che stringono patti scelerati con l'Andrangheta pur di conquistare posizione di potere. Così il candidato alla presidenza della regione Calabria Pippo Callipo risponde al leader della Lega, Matteo Salvini. Suggerirei al signor Salvini e ai suoi seguaci calabresi, prosegue Callipo, di leggere attentamente le parole appassionate di Nino De Masi. Non passa giorno in cui i calabresi non siano costretti a scoprire quanto certi sistemi criminali siano penetrati fin dentro il cuore dello Stato. Continuare a girarci dall'altra parte di fronte a tanta protervia significa negare il futuro ai nostri figli e ai nostri nipoti. Dopo una vita di lavoro potevo starmene tranquillo e invece ho scelto di mettere a disposizione la mia storia, la mia esperienza per cambiare la Calabria. Altri come Salvini vivono di politiche e danno la necessità di conquistare consenso sui territori che fino a ieri hanno insultato e che oggi vogliono depredare per farne una pedina nel loro scacchiere politico. Ringrazio Salvini per l'attenzione ma gli consiglio di stare tranquillo. I calabresi, conclude Callipo, non hanno perso la memoria e conservano la libertà di opinione, un sano spirito critico. La scelta tra tornare al passato o aprire una pagina nuova è solo nelle loro mani. L'articolo 32 della Costituzione recita la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. In Calabria questo diritto è stato usato e abusato per creare assistenzialismo. Lo afferma Carlo Tanzi, candidato alla presidenza della regione. In una regione con meno di 2 milioni di abitanti in 20 anni sono creati oltre 30 ospedali, dice Tanzi, tutti fotocopio e in molti casi poco utili per la collettività. Tutto questo ha prodotto un'offerta sanitaria e servizi ospedaliari di bassissima qualità che a loro volta hanno prodotto una mostruosa immigrazione sanitaria. Il Governo nazionale ha delegato il riordino del sistema sanitario regionale a commissari e tecnici tutti rigorosamente non medici ed il risultato è stato deludente. A questo si aggiunga un depauperamento di risorse sia umane che strumentali generato dal famoso tentativo non riuscito di risienare i conti. Quasi nessun ospedale è munito di reparto di osservazione breve e intensiva che rappresenterebbe lo strumento principale per la riduzione dei ricoveri impropri. I tempi sono maturi per una profonda, moderna, innovativa e complessiva riforma del sistema sanitario regionale. Ha concluso Tanzi, porrò questi temi in cima a tutte le priorità. Però io credo di poter promettere una cosa che è certa. Quello di Isola Caporizzute è un territorio con altissime potenzialità e una bassa qualità della vita. Oggi conta migliaia di cittadini delusi, rassegnati e sfiduciati dalla politica. È chiaro che in questi luoghi la politica deve riappropriarsi degli spazi democratici per aiutare a definire una strategia di sviluppo, possibilmente condivisa all'esito di un processo di democratizzazione della definizione delle politiche. Lo afferma Francesco Aiello, candidato alla presidenza della Regione Calabria con la coalizione civica del Movimento 5 Stelle. Tuttavia la campagna elettorale in corso, aggiunge Aiello, si sta caratterizzando per la totale assenza di idee proposte sui temi dell'occupazione, della giustizia sociale e delle lotte a favore dei cittadini e dei lavoratori. Un'assenza dovuta soprattutto alla crisi d'identità di quella sinistra che in passato ha amministrato e indirizzato le lotte sociali in molti territori della Calabria. Io sto visitando in lungo e in largo la Calabria per ascoltare i territori e le istanze dei cittadini. Finora ho appreso quanto segue in questo marasma politico. Noi siamo l'unica alternativa possibile. Francesco Aiello è il candidato alla presidenza della Regione Calabria, della coalizione civica del Movimento 5 Stelle. Chi prende le distanze da lui le prende dal Movimento 5 Stelle e non voterà M5S il prossimo 26 gennaio. Lo scrive su Facebook l'euro parlamentare del Movimento 5 Stelle Laura Ferrara. Secondo Ferrara, il senatore Nicola Morra, che ricopre una carica istituzionale che implica ponderatezza, competenza e obiettività, non dovrebbe usare il proprio ruolo e la visibilità che quella carica gli attribuisce per portare avanti lotte intestine e distruggere il Movimento 5 Stelle in Calabria. Non ci sono indagini a carico del professor Aiello né precedenti penali e se si vuole porre la questione sul piano dell'opportunità non si possono fare valutazioni in politica come nella vita applicando la proprietà transitiva. Continuando con una stigmatizzazione becera, sostiene l'euro parlamentare M5S, si offende non soltanto il Movimento 5 Stelle ma tutto il territorio calabrese al quale, così ragionando, non si concede nessuna possibilità di riscatto. C'è una Calabria che ha voglia di cambiare passo, di dare fiducia e di essere libera di cambiare. Abbiamo un programma da portare avanti e persone per bene che hanno voglia di realizzarlo, conclude. La giunta regionale preseduta da Mario Oliverio con l'assistenza del segretario regionale Ennio Apicella ha approvato, su proposta dell'assessorato all'istruzione, il piano della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa della Regione 2020-2021. Terminati gli accertamenti biologici effettuati dai carabinieri del Rissi di Messina sui due cadaveri rinvenuti in un diruppo in località Scala di Mesoraca, a Petiglia Policastro, nel Crotonese, il 4 settembre scorso. L'analisi del DNA non lascia dubbi, i corpi sono quelli di Rosario e Salvatore Manfreda, padre e figlio, rispettivamente 68 e 35 anni, allevatori, vittime di un caso che fino a poco fa era di lupara bianca. Due corrieri della droga sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Si tratta di Saverio Zaccaria, di 27 anni, e Vincenzo Fortuna, 41 anni, entrambi residenti in provincia di Vibo Valencia. Erano su una autovettura con non sei chili e mezzo di cocaina, del valore vicino al milione di euro al dettaglio, e percorrevano l'autostrada A19 in direzione del capoluogo palermitano. La Giunta Comunale di Vibo Valencia ha approvato un regolamento che prevede agevolazioni sui tributi locali in favore delle vittime della criminalità. Si tratta, riferisce una nota, di provvedimenti operativi finalizzati a rafforzare l'azione pubblica di contrasto ai fenomeni connessi al racket, al fine di perseguire con idoni strumenti di prevenzione il contrasto alla criminalità organizzata, in concorso con le altre istituzioni della Repubblica, nella consapevolezza della necessità di sostenere efficacemente lo sforzo compiuto dai cittadini per la liberazione di ogni forma di violenza criminale. Il regolamento si compone di cinque articoli. Sono previsti sgravi sotto forma di un contributo annuo per un periodo di cinque anni dal momento della richiesta. Nella parte antistante alla Prefettura di Catanzare e in numerose altre città d'Italia si è svolto un presidio contro qualsiasi autonomia differenziata, promosso dal Comitato Territoriale contro qualsiasi autonomia differenziata per l'unità della Repubblica e per la rimozione delle diseguaglianze e dall'anti. C'è un processo in atto di regionalizzazione dell'Italia, il che significa che la Calabria non potrà affrontare questo processo perché economicamente non è una regione in grado di sostenerlo. È un processo che purtroppo sarà lesivo dei principi costituzionali di unità del nostro Paese, dei principi fondamentali di uguaglianza e noi rappresentiamo il Comitato Nazionale contro qualsiasi autonomia differenziata per l'unità della Repubblica e la rimozione delle diseguaglianze. Siamo appena entrati in Prefettura, abbiamo consegnato una lettera al Prefetto in cui manifestiamo questa grave preoccupazione che ci affligge per questo processo di regionalizzazione che la Calabria non è in grado di sostenere. Autonomia differenziata, differenziata per i trasporti, per la sanità, per le scuole, per gli asili? Certo, autonomia differenziata ha detto bene per tutti questi servizi che riguardano la vita delle persone. I dati che non distribuiamo noi ma sono forniti da istituti qualificati come Svimez, Banca d'Italia, Cnello e tanti altri parlano di un divario tra l'ord e sud oramai quasi incolmabile. A parte la vicenda della ripresa dell'emigrazione, ci sono i dati sulla spesa sociale che fanno rabbrividire. Città del nord come Trento, Bozzano che spendono sino a 3.000 più euro di spesa sociale però capita per esempio per l'infanzia, una città come Catanzaro che ne spende 38, così come la questione dell'emigrazione sanitaria e proprio di questi giorni la richiesta di un gruppo di medici dell'ospedale pugliese che hanno richiesto macchinari come il robot da Vinci che al nord è già operante da anni e invece ancora noi stiamo a richiedere quasi le cose basilari per poter gestire la sanità. L'autonomia differenziata fa tabbola rasa sostanzialmente della Costituzione, dell'uguaglianza tra cittadini, perché rende più ricchi i ricchi e più poveri i poveri. Questo è il senso dell'autonomia differenziata alla quale ci opponiamo con fermezza. Prosegue la protesta delle associazioni di volontariato che garantiscono il servizio di supporto al sistema di emergenza urgenza delle 118 e il trasporto di pazienti dializzati nella provincia di Cosenza. Stamane alcune decine di operatori sociosanitari hanno manifestato nel piazzale della cittadella regionale. Gli OS lamentano ritardi nelle procedure di perfezionamento per l'autorizzazione e l'accreditamento da parte della Regione dell'Asp di Cosenza per le associazioni di volontariato e chiedono che venga avviato quanto previsto dal DCA 141 del 2018 della Regione Calabria che disciplina le autorizzazioni sanitarie anche per le associazioni di volontariato. Attualmente svolgiamo servizio per il 118 di Cosenza e per il trasporto dei pazienti dializzati. Abbiamo delle convenzioni che, come avete sentito in questi giorni, saranno a scadenza per il 12 febbraio. Dal 12 febbraio in poi i pazienti dializzati rimarranno senza trasporto. La terapia che fanno ovviamente è una terapia salvavita, quindi se non si recano in ospedale non possono sopravvivere. In secondo luogo poi c'è la questione 118, verranno soppresse ben 10 postazioni di emergenza territoriale nella provincia di Cosenza. Quello che vogliamo noi oggi lo abbiamo scritto qui, abbiamo delle richieste significative. Da qui oggi dobbiamo uscire con delle risposte concrete, non accetteremo proroghe, non accetteremo promesse, non accetteremo altro. Oggi dobbiamo avere delle risposte concrete perché non si può giocare ulteriormente con la vita delle persone. Sono tutte associazioni limpide e trasparenti, quindi non abbiamo quel genere di problema che affligge la Calabria. Per cui chiediamo null'altro che poter svolgere il nostro compito e il nostro dovere civico. Per il commissario per il piano di rientro del debito sanitario, Savero Cotticelli, è necessaria una revisione del sistema del 118 a partire da regole generali ben precise per tutto il territorio regionale. È un nuovo decreto. Vediamo trasparenza assoluta, non ci deve essere nessuna zona d'ombra e tutti devono lavorare secondo i principi chiari che noi stabiliremo. Faremo un nuovo decreto che manderemo per preventiva autorizzazione ai ministeri affiancanti in cui indicheremo tutte le norme con chiarezza e gli operatori dovranno adeguarsi. Sempre alla luce della trasparenza e della legalità. Con una nota congiunta, CGL, Cisle e Will comunicano che i lavoratori di Ecologia Oggi, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti a Cosenza, sono nuovamente in agitazione per il mancato pagamento degli stipendi. Il ritardo sarebbe dovuto ai mancati pagamenti da parte del Comune di Cosenza, come noto in situazione di dissesto economico. I lavoratori non hanno ricevuto ancora la mensilità di dicembre e ci sono seri rischi per quella di gennaio. I sindacati hanno già chiesto un incontro tra le parti in prefettura da tenersi dopo il giorno 20 gennaio, data in cui si insiederà il nuovo prefetto. L'Assemblea Generale della Filcams CGL Calabria, su proposte del segretario generale Giuseppe Valentino, ha eletto il coordinamento regionale di cui fanno parte Annelisa Assunto, Samantha Caridi, Andrea Ferrone e Armando Labonia, alla presenza delle dirigenti Federica Cocchi per la Filcams Nazionale e Caterina Vaiti, segretaria regionale CGL Calabria. La relazione del segretario generale e il ricco dibattito proposto dai delegati hanno trattato temi come quello della legalità, il turismo, il lavoro povero e quello degli appalti, questioni che impegneranno i dirigenti della Filcams Calabria per meglio rappresentare chi lavora in questi settori con l'obiettivo di migliorarne le condizioni sociali e lavorative. Sarà il signore Eugenio Abbattista di Molfetta ad arbitrare il derby calabrese di Serie B lunedì sera allo stadio San Vito Marulla di Cosenza alle ore 21 tra il Cosenza e il Crotone. Abbattista sarà coadiuvato agli assistenti Giuseppe Macaddino di Pesaro e Pasquale Cangiano di Napoli. Quarto ufficiale di gara sarà il signore Antonio Di Martino di Giulianova. Altra giornata a tempo pieno per il Cosenza impegnato in una seduta di allenamento è nell'amichevole delle San Vito Gigi Marulla contro il Corigliano terminata con il risultato di 4-1 per effetto delle reti di Trovato, doppietta di Pierini e Ida per i Rosso-Blu e di Catalano per i Bianco-Azzurri. Il Cosenza preparerà la preparazione a porte chiuse fino a domenica. Curiosità sulla panchina del Corigliano è esordito seppur in amichevole il nuovo tecnico Benedetto Mangiapanex Vigor Lamezia, il quale ha sostituito in settimana Fabio De Sanzo. Dopo la sosta invernale si avvicina il ritorno del campionato di Serie B e in casa Crotone continuano gli allenamenti in vista delle derby importanti di lunedì sera al San Vito Marulla contro il Cosenza. Finalmente si torna a giocare, afferma sorridendo Mustacchio, perché questo girone di ritorno sarà un altro campionato ancora più importante di quello dell'andata e decreterà i risultati finali, quindi noi non vediamo l'ora di riprendere a giocare per cercare di mettere i primi punti nella nostra classifica. Sappiamo dell'importanza del derby, ci prepareremo al meglio e vogliamo iniziare nel migliore dei modi con la massima umiltà e cattiveria che c'è sempre contraddistinto. Aggiungo finalmente, nel senso che non vedevamo l'ora di ricominciare, perché questo girone di ritorno sarà un altro campionato ancora più importante di quello del giro d'andata e decreterà i risultati finali, quindi non vediamo l'ora di cominciare a giocare per cominciare a mettere i primi punti nella nostra classifica. Innanzitutto sappiamo dell'importanza di questa partita per i nostri tifosi, per la città, quindi a maggior ragione dovremo essere molto intelligenti, sappiamo le qualità loro, le stiamo studiando e ci prepareremo al meglio. Sappiamo che è una partita fondamentale, ma voglio metterla anche più in grande, fondamentale proprio per il nostro campionato, cominciare bene, cominciare con i primi tre punti, quindi con la consapevolezza nei nostri mezzi, ma con massima umiltà e cattiveria, quella che ci ha contraddistinto in questo girone d'andata anche nei momenti difficili, quindi è una partita tosta, ma ce la metteremo tutta. Sì, è stato un girone d'andata positivo, c'è stato un mesetto in cui probabilmente abbiamo perso qualcosa per strada, ne siamo consapevoli, però c'è da dire che siamo stati bravi a rialzarsi subito ed è una cosa fondamentale, come dicevo prima, proprio per la consapevolezza nei nostri mezzi, quindi sarà un'arma in più per il girone di ritorno, adesso rientreranno anche i ragazzi che erano infortunati, siamo quasi al completo, quindi di buon auspicio per il girone di ritorno. Per quanto mi riguarda sono contento che nell'ultima parte sono riuscito un po' a far vedere ancora di più magari quello che posso dare ai miei compagni, allo staff, a questa città, ma so ancora che posso migliorare ancora tanto, quindi c'è la mia massima disponibilità e voglia proprio per cercare di dare ancora di più. Ho letto con stupore le dichiarazioni rilasciate dalla direttore sportivo delle Cesena sull'eventuale cessione del nostro calciatore Mangni alla loro squadra. Si è trattato di una lunga trattativa nel corso della quale la società emiliana ha cambiato più volte le condizioni che erano state concordate. Lo dichiara il direttore sportivo dell'Uscatanzaro Pasquale Logiudice. Oltre alla fake news dei problemi fisici del calciatore che poteva essere facilmente smentita sottoponendolo alle visite mediche di routine, c'è stata richiesta, afferma Logiudice, anche la sottoscrizione di una scrittura privata, quasi che ancora ci trovassimo a militare in un campionato direttantistico. Così, senza esitazioni, conclude il DS Calabrese, affermo che la trattativa non è andata a buon fine per motivazioni che non sono certo addebitabili né alla Catanzaro né alle condizioni di Mangni. Intanto, tornando al calcio giocato, la Lega, in relazione ad esigenze televisive, ha disposto che la gara in programma mercoledì 22 gennaio allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo, tra il Teramo ed il Catanzaro, abbinizza alle ore 18 anziché alle ore 18.30. Mercoledì, infatti, si recupera la prima giornata di ritorno in Serie C, non disputata domenica 22 dicembre a causa dello sciopero. Grazie a tutti.